Nell'ambito del gruppo di Torre Annunziata, che è molto grande, è sicuramente una delle cittadine più importanti, sia come voi dei abitanti e come venimenti, per cui l'arma dei Carabinieri che è qui presente con la stazione anche abbastanza torposa che è stata tra l'altro rinforzata negli ultimi mesi, la stazione Corpus è stata oggetto di un sensibile rinforzo, per cui il luogodente Scherati dispone di un numerico abbastanza adeguato, però non è una monade, ecco l'arma dei Carabinieri che si basa sulle stazioni dei Carabinieri che per noi sono la nostra vera forza, però non sono delle monade, cerchiamo sempre di lavorare in sistema, quindi la stazione è inserita nella compagnia di Torre del Greco, diciamo qui il comandante Capitano Bonomo, e quindi ha la bisogna comunque di staccare e impiegare assetti della compagnia, quindi le radiomobili, così come le alipote operative che operano in abiti civili, ma io come comandante gruppo anche ovviamente ho la possibilità di distribuire ogni tanto dei rinforzi a livello di tutto il gruppo, perché come il buon padre e famiglia non è che sono su portici e magari che a stella mare lo lasciamo, però un esempio che non è un caso, ripeto, non è stato fatto ad hoc perché c'erano ad hoc, però sia oggi che domani per esempio delle unità del battaglione Campania, che sono parte di Cacusetta Compagnia di Intervento Operativo, la CIO, sono 4 partigli oggi e 4 partigli domani, sono concentrati su portici nella fascia serale, talda serata, appunto perché sappiamo come è, sappiamo bene che specialmente il fine settimana, diciamo, lo sapevo già prima di arrivare a Torre Onsata, perché quando ho saputo di arrivare a Torre Onsata inizia a essere curioso, quindi guardavo la recensione di stampa e vedevo che sul portici in fine settimana succedevano questi fatti che ovviamente è meglio prevenire, quindi l'arma dei carabinieri cerca di utilizzare gli sforzi laddove è possibile seguendo queste esigenze, quindi abbiamo il portici, c'è anche il carabinieri di quartiere, quindi che tutti che ci sono conosciate, si ripetano, e si cerca anche con la stazione mobile che è un presidio che possiamo spostare, quindi anche come punto di riferimento negli orari, se non sbaglio, quello di domani sera tendiamo un po' di mangiare. Questo è un pochettino la... È ovvio che è sempre il gioco della coperta, cioè non è che abbiamo la pretesa di dire riusciamo, perché è ovvio che in territori del genere si cerca sempre la coperta di dimetterla e coprire un pochettino, però non si potrà mai essere, diciamo. E poi dico una banalità, forse non è tale, noi la nostra forza è ovviamente quello di avere la collaborazione anche di tutti i cittadini, perché sono tanti occhi in più, sono dei sensori, perché ovviamente nessuno di noi vorrebbe vivere, infatti non è possibile, in una cittadina militarizzata, noi abbiamo un carabinieri per ogni angolo. A parte che è impossibile proprio perché Monti mi sa che sarebbe un... ma voglio dire non è neanche la presa democratica, insomma, era in poter per forza avere i controllori ogni angolo, non è così. I controllori siamo tutti, perché oggi quello che abbiamo capito è una cosa che si parla di legalità, no? La legalità è un bene di tutti, per cui è un bene di tutte le componenti sane della società, della scuola, delle associazioni e tutto quanto, è ovvio che in questo ambito noi facciamo un lavoro importante, perché noi siamo pagati, abbiamo fatto una scelta anche mettendo a repentaglio la nostra vita, non a caso voglio dire se è vittima, se muore un carabiniere che speriamo non succeda mai, però purtroppo non capitare, siamo vittime del dovere, perché fa parte del nostro dovere, non che vogliamo morire, però purtroppo capitare. Una, diciamo, persona che rimane coinvolta in un episodio, diciamo, di... che perde la vita, così una persona che non si è un carabiniere ovviamente si dice una vittima innocente, no? Molte volte lo sentiamo, vittime del dovere, vittime del... non sono a caso le definizioni, ma indicano proprio qualcosa che per noi fa parte anche del nostro lavoro, mettere a repentaglio della nostra vita, ripeto, anche se il nostro dovere è portarla a casa ogni sera, la pellaccia perché... niente, ripeto, questo è giusto un pochettino, la filosofia dell'arma è quella di continuare ancora di più a ricercare la prossimità. La prossimità vuol dire soprattutto, parlo per me, cercare sempre più di capire il punto di vista degli altri, perché è vero, io vado anche... andiamo, io vado anche nelle scuole a parlare, perché... ci rendiamo conto quanto sia importante, ma il ritorno, paradossalmente, non è soltanto per loro, perché tutte le volte che sono stato, fino a qualche giorno fa, a contatto con ragazzi, dall'elementare alle scuole superiori, il ritorno è anche per noi, perché capire come veniamo visti dagli altri, è anche importante, perché noi vediamo la realtà con gli occhiali del carabiniere, no? E però bisogna sempre mettersi da parte, diciamo, degli altri persone, quindi capire che ognuno ha un problema da risolvere se viene da noi e noi abbiamo il dovere, insomma, di impegnarsi al massimo, per cui questo è un pochettino... conoscersi di più, questo vuol dire nella prossimità, per cui quando abbiamo la chiamata, no? Succede qualcosa e chiamiamo la macchina dei carabinieri, ovviamente cosa pretendiamo? Della macchina dei carabinieri del rivi, giusto? Allora quante volte, forse l'imparciatore dice, quante volte stanno anche i carabinieri e dicono, ma io una volta l'ho chiamata, è arrivata dopo 40 minuti, può essere, no? Perché magari può capire, allora ecco, magari conoscerci un po' di più, perché io faccio questo esempio anche con i ragazzi, dico, ma se voi siete, venite anche nel nostro centro operativo, uno scambio di vite, se c'è contemporaneamente una doppia richiesta, di chi entra in casa e trova la casa già, diciamo così, svaliggiata, però i ladri sono andati via, siamo in pieno giorno, e magari contemporaneamente una richiesta di intervento, c'è qualcuno che sta tentando il suicidio, o ci sono i ladri in casa, o qualche altra cosa, e tu hai una macchina, dove la mangi? Ovviamente dai la priorità laddove c'è maggiore necessità, però è anche importante considerare che quella persona che è entrata a casa, ha trovato la casa svaliggiata, sta aspettando i carabinieri, quindi a volte una maggiore comunicazione, perché se l'operatore dei carabinieri dice, signora, le mandiamo più presto la macchina e chiude, giusto, e poi la macchina dopo mezz'ora, quella signora è lì che aspetta e dirà ai carabinieri che sono in ritardo, se invece gli si spiega, dice guarda, la macchina o la pattuglia ce l'abbiamo impegnata su un altro intervento, arriveremo, ci metteremo una mezz'oretta, però lei non tocchi nulla perché dobbiamo fare i rilievi, mettere impronti, vada da un vicino di casa, sia tranquilla che arriveremo, vede come già cambia la prospettiva, perché quella persona, quella signora, quel signore si mette l'anima in pace, dice vabbè devo aspettare una mezz'oretta perché c'è un motivo, mi hanno spiegato il perché, non sono lì, sono esempi banali, però a volte sono quelle cose che se non ho mai avuto bisogno di carabinieri, quella volta che ho avuto bisogno e ho dovuto fare la fila perché lavoro, ovviamente manterrò poi quel ricordo, non so sì, ma i carabinieri, quando c'è bisogno chissà dove stanno, perché ovviamente...